Buongiorno a tutti ragazzi, qua sono con Tia, mio amico, e staremo per fare la sfida con il marshmallow che praticamente consiste di mettere più marshmallow possibili in bocca e metterli in bocca uno a uno e direi marshmallow. Buona visione. Comincio io, te quanto è? Uno, uno. E marshmallow. Piccolo in comienzo. Due marshmallow. Uno, 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 uno. Tres marshmallow. Quattro marshmallow. Basta. Quattro marshmallow. Cinque marshmallow. Dai. Dai. Cinque. Ce. Quattro marshmallow. Quattro marshmallow. Insomma. 9 massimello ci stiamo avvicinando al momento di chiusura 9 e 9 massimello 11 massimello 11 12 massimello 12 iniziamo quanto sei? ne ha mangiato uno sto questo cappellone allora cominciamo la sfida 1 massimello 1 massimello 2 massimello 2 massimello 4 massimello 4 massimello 5 massimello 6 massimello 6 massimello 6 massimello 8 massimello 8 massimello 8 massimello non lo devo fare ridere perchè sennò scunto tutto 6 massimello 6 massimello 6 massimello Non ci hai capito bene Devi tirare e togliere le dita dalle bocca Devi togliere le dita Devi togliere le dita dalle bocca Eh, vai Che merda Va bene Siamo a 10 Eh, ok, ho vinto io Oddio Vabbè, ciao a tutti i ragazzi, scrivetemi Mettete un pollicello in su Oh, richiedo un nome di Mincita, posso? No, no Grazie ragazzi No, no Eh, vabbè, ho vinto io E scrivetevi, commentate e mettete un pollicello in su Ciao E' il prossimo video